Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. In questi giorni, i social media sono pervasi da una serie di notizie molto gravi riguardanti la salute di Gerry Scotti. Parallelamente, numerosi canali YouTube hanno intrapreso la condivisione di queste informazioni, innescando un dibattito su quanto sta accadendo. È purtroppo innegabile che, a partire dal suo recente ricovero in ospedale, si siano diffuse paure e preoccupazioni riguardanti l'amato conduttore. Si legge che Gerry è stato ricoverato presso il prestigioso San Raffaele, e a capo della sua cura via il rinomato dottor Zangrillo, noto per aver salvato in più occasioni la vita di Silvio Berlusconi. Ciò che risulta alquanto curioso è il silenzio che avvolge il contesto familiare e gli amici più intimi di Gerry Scotti, compresa la sua attuale compagna Gabriella. La mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte di questi soggetti è un elemento che emerge con stranezza dalle notizie che abbiamo a disposizione in questi ultimi giorni. Finora, dalle fonti che abbiamo consultato online, non emergono conferme ufficiali riguardo al fatto che Gerry Scotti si trovi in terapia intensiva o addirittura ricoverato in ospedale. Quindi è una notizia falsa. È fondamentale, pertanto, ricordare a tutti di esercitare cautela nell'approcciare le notizie rinvenute in rete e di perseguire in ogni occasione la verifica della loro autenticità. Inoltre, si consiglia vivamente di consultare i profili social ufficiali delle celebrità per ottenere eventuali informazioni aggiornate e attendibili sulla situazione in corso. Siete felici che Gerry sta bene? Lascia un commento per dimostrare il tuo affetto al conduttore.